Tema. Mentre in Italia e in Germania la democrazia non riuscì a sopravvivere ai traumi sociali ed economici del primo dopoguerra. Gadus alla guerra grande è la trasposizione teatrale del giornale di guerra e di prigionia che Carlo Emilio Gadda, sottotenente degli Alpini durante la prima guerra mondiale, tenne tra l'agosto del 15 e il dicembre del 19 per raccontare la sua vita di soldato al fronte e poi di prigioniero dei tedeschi. Un documento straordinario messo in scena in modo originalissimo dalla compagnia Marco Gobetti e proposto dalla presidenza del Consiglio Provinciale in due repliche in occasione del centenario della prima guerra mondiale per fare memoria di quell'evento e per promuovere un futuro di pace. Abbiamo deciso di calarlo in una vicenda contemporanea che andasse a raggiungere l'immaginario di un pubblico quanto più vasto possibile, in particolare di un pubblico di studenti, visto che lo spettacolo è nato per gli studenti delle scuole medie superiori. E allora abbiamo cercato un luogo, in questo caso mentale, che è l'esame di maturità. E abbiamo calato quella vicenda, con un escamotaggio drammaturgico, nella vicenda di un esame di maturità avvenuto in un anno preciso abbastanza vicino a noi, che era il 1999, anno in cui peraltro c'erano i bombardamenti nato in Serbia. Quindi abbiamo avvicinato la vita di un giovane soldato di inizio Novecento alla vita di un giovane studente di fine Novecento. Con il disordine e con la prolissità dei loro atti sconclusionati, proverrà alle attitudini dell'ideatore e del posto. Non si tratta di un'operazione di memoria fine a se stessa, ma di un pezzo di teatro civile, nel momento in cui lo spettacolo, oltre a restituire la realtà storica, promuove una conoscenza attiva e sollecita allo spettatore la partecipazione intellettuale, morale ed emotiva. Un'opera che ci consegna la grande umanità di Carlo Emilio Gadda e nella quale già si intravede la grandezza dello scrittore che sarà. E' molto utile questo diario proprio in un senso abbastanza vicino a quanto ho detto poc'anzi, nel senso che lui ha calato in modo profondo la tragedia della guerra che aveva intorno e della prigionia e di cui era protagonista, l'ha calata nel suo vissuto personale e nella sua tragedia personale, nelle difficoltà familiari, quindi istintivamente da grande scrittore quale diverrà, perché in quel momento non era ancora un grande scrittore e lui è riuscito a fare di un suo vissuto privato un racconto che arriva a toccare tutti e a scatenare sogni e pensieri in tutti quanti, non imposti, come tenta di fare anche il teatro, ma sogni e pensieri vari e possibili in ciascuno, quindi anche un'opera a suo modo pedagogica. In scena un attore di prosa ed un mimo. Il primo racconta e interpreta, il secondo ne sublime l'azione attraverso l'uso del corpo e la produzione di suoni dal vivo. Il monologo per attore e mimo, perché si è cercato di dare una chiave di lettura in più al pubblico, nel senso che si è voluto mettere un ulteriore corpo in scena a rappresentare in un certo modo i pensieri, è quello che è la proiezione della mente dell'attore che sta avendo il monologo, che sta portando una storia su più piani e quindi la mia funzione è dare corpo più che voce a tutte queste immagini, quindi l'obiettivo è quello di creare una seconda chiave di lettura che vada a coinvolgere lo spettatore più da un piano emotivo, cioè creare suggestioni. Nel 2018 è prevista un'evoluzione del progetto con altre repliche e giornate di approfondimento storico-teatrale nelle scuole, recitazione di Marco Gobetti, Jacopo Tealdi e Enrico Mazza, disegno, luci e allestimenti di Simona Gallo, direzione Beppe Turletti. Grazie a tutti!